Questo è un saluto a tutti i lettori e lo staff della tecnica della scuola. Mi metto assolutamente a disposizione, ora datemi un paio di settimane per riuscire a completare lo staff e far partire l'attività al Ministero con la nuova gestione e poi sicuramente a disposizione non solo per comunicare quelle che sono le priorità che intendo perseguire nei prossimi mesi, ma anche per discutere con voi di quelle che sono le esigenze e le necessità del mondo della scuola che ritengo essere così importanti e al tempo stesso complesse che non possono essere risolte da una sola persona, da un solo Ministero, ma solo attraverso la condivisione di quelle che sono le problematiche e le eventuali soluzioni. Quindi sicuramente avremo modo di collaborare e di discutere in maniera collegiale su come affrontare le sfide che ci attendono.